Buongiorno a tutti e benvenuti al nono tutorial dedicato alla formazione di GoWeb. In questa sessione andremo a analizzare come utilizzare una tessera abbonamento già assegnata in precedenza. Vi ricordo che l'assegnazione della tessera abbonamento e il relativo carico lo abbiamo analizzato nel tutorial numero 8. Adesso per vedere l'utilizzo della tessera andiamo a riportare in sala il cliente al quale avevamo attribuito il nostro abbonamento. Quindi ricerco il mio cliente, che per l'appunto posso ricercarlo per nome oppure con la lettura della sua card, lo portiamo in sala. Quindi nel momento in cui è in sala io posso vedere nella sezione delle tessere che questo cliente ha un abbonamento attivo con il relativo dettaglio. Quindi al servizio colore dove erano stati caricati 6 servizi colore, ne sono rimasti ancora 6. L'utilizzo della tessera abbonamento è molto semplice. Quindi io andrò a inserire il servizio nel dettaglio della mia ricevuta e nel momento in cui c'è corrispondenza tra ciò che inserisco e ciò che era stato caricato, mi propone se voglio utilizzare la tessera abbonamento. Quindi andrò a selezionare continua con selezione se voglio scaricare il servizio dall'abbonamento oppure se non volessi scaricarlo ma pagarlo normalmente potrei fare continua senza selezione. Quindi vedete che è stato inserito normalmente. Se invece io ripropongo il servizio, lui mi ripropone la maschera, questa volta farò continua con selezione e vedete che mi dice uso abbonamento e avrò la A. Per qualsiasi altro servizio che non è incluso nella mia tessera abbonamento, invece lui non mi propone nessuna maschera perché per l'appunto non c'è corrispondenza. Nel prossimo tutorial vi anticipo che andremo ad analizzare le tessere sconto.